la sottile linea che lega poi me con la comunità di questo canale è una linea che devo dire diventa sempre più forte ma soprattutto poi comprendo che c'è quando mi vengono rivolte delle domande attraverso server discord attraverso instagram facebook e così via e io assumo poi quelle domande come tema di un video specifico allora parliamo di un tema che mi ha proposto claudia e quindi mi fa piacere affrontarlo perché è una persona che stimo tra le altre cose è stata a napoli ha fatto diverse attività claudia mi ha fatto la domanda del progetto fotografico parla e affronta il tema dei progetti fotografici tema a me carissimo perché io nella mia prima vita sono stato un progettista di impresa quindi ho affrontato già questo tema sotto questo punto di vista però ovviamente da economista quindi parlando della sostenibilità quindi del tempo da dedicare un progetto degli obiettivi del progetto e così via però non è sufficiente c'è nel senso che io questo video lo voglio realizzare diverso e quindi affrontiamo la tematica non era completamente differente e però ovviamente se nella prima vita ero quello oggi sono uno street photographer napoletano lo sapete perfettamente quello che vi chiede il like preventivo e che credo che sia giusto metterlo ora pensatela come la volete però secondo me è corretto mettere il like prima o meglio metterlo prima che non metterlo dopo perché ve lo siete dimenticati quindi io ve lo ricordo prima però quest'idea del progetto fotografico è una cosa molto profonda secondo me perché è un po quello che in qualche maniera in diverse fasi del nostro percorso ci viene in mente pensiamo che per qualificare la nostra fotografia dobbiamo fare un progetto quindi c'è uno scopo specifico in quella direzione oppure pensiamo che vogliamo raccogliere parte della nostra delle nostre fotografie sotto forma di progetto che un'altra ipotesi quindi molti progetti nascono dopo quindi l'idea viene dopo aver realizzato le fotografie sostanzialmente ma io poi riflettevo quando claudio mi ha posto la domanda sul fatto che il primo progetto fotografico fondamentalmente siamo noi e ora dio ovviamente quando dico questo non voglio rappresentare che noi dobbiamo fare degli autoritratti attività tra le altre cose fantastica con dei grandissimi limiti tecnici ma poi un giorno ne parlerò ma che siamo il primo progetto fotografico e questa cosa si comprende soprattutto su un aspetto noi della fotografia intesa proprio come arte quindi come fatto legato alla creatività umana la nostra creatività è un'attività che ci riempie il tempo che ci richiede studio e così via ma noi della nostra fotografia nella realtà cosa ne vogliamo fare cioè perché questa grandissima passione la domanda non è scontata infatti quando l'opposta sul server disco qualcuno me l'ha fatto notare ed è un po come la domanda che io faccio durante le live tu perché fotografi è una domanda profonda è ovvio che faccio un'attività perché mi fa stare bene perché è nelle mie corde mi trasferisce evidentemente delle vibrazioni positive e mi danno la possibilità di esprimermi ma anche semplicemente il momento di aggregazione insieme ad altre persone appassionate quindi posso andare a mangiare la pizza più che il caffè più che il bombardino con loro questa domanda del legame che noi abbiamo con la fotografia nella realtà è una domanda che pochi si fanno che noi non ci facciamo molto spesso però secondo me è una domanda fondamentale voi sapete che io in molte situazioni faccio tre passi indietro e cerco di capire più che un fatto tecnico più che un fatto operativo il fatto strategico quindi il fatto molte volte è legato proprio al posizionamento cioè io prendo una macchina fotografica divento fotografo perché perché è tanto scontato che un fotografo che lo faccia per professione investa soldi tempo a fronte poi di un ricavo fondamentalmente però è meno scontato quando lo fa un fotografo non professionista il cosiddetto amatore amatoriale un fotografo amatoriale e non è scontato ed è una domanda fondamentalmente che io pongo poi a tutti quanti c'è pongo a tutti quanti dopo averla fatta a me ed è una domanda quella del nostro legame in prospettiva quindi finalizzato ad un obiettivo che molte volte è fondamentale io fotografo perché ne voglio fare una professione quindi la devo qualificare non fate come molti che dopo un quarto d'ora però nel canale youtube la fotografia è un fatto serio e quindi richiede tempo richiede approfondimento e può essere anche un'alternativa lavorativa in senso assoluto oppure lo faccio perché apparentemente in maniera non finalistica quindi a finalistica io voglio provare ad esprimermi con la fotografia poi può essere sicuramente un obiettivo tolto quello economico il fatto di ricevere riconoscimenti lo voglio fare perché mi voglio affermare come artista in quest'ambito non ne ho direttamente un'idea speculativa economica ma ne ho un'idea di rappresentare quello che vedo attraverso la fotografia in un certo modo la domanda quindi del progetto fotografico parte da primo dal primo progetto fotografico che siamo molto probabilmente noi e quindi capire cosa ne voglio fare perché tutti quanti gli altri quindi la realizzazione di un lavoro specifico più che la realizzazione di una mostra più che la realizzazione di un progetto in fotografia come può essere un canale youtube quindi non di un progetto fotografico ma di un progetto in fotografia devono essere in qualche maniera finalizzati allora questa domanda nasconde secondo me uno dei motivi principali che poi fa lasciare la fotografia a molti fotografi cioè nel senso che si parte magari per una passione tecnologica oppure per voler provare però poi si molla tutto quanto per quale motivo perché noi non vediamo non abbiamo un obiettivo in prospettiva quindi noi non vediamo cosa dobbiamo diventare molte volte questa cosa dipende molto da chi ci affianca in questo percorso e quindi anche io direi dalla nostra capacità di ascoltare persone che magari sono più esperte che ci possono anche far appassionare di più a quest'arte meravigliosa che poi è la fotografia io direi tra le arti fotografiche quelle della street photography nel caso specifico parlando poi ovviamente parlando nel mio canale ma il concetto di noi è la nostra fotografia e il fatto di vederlo in prospettiva è indubbiamente uno degli elementi che ci permette di scollinare le prime difficoltà che ci permette poi di insistere in un percorso che ci permette di guardarci anche una maniera critica e quindi vedendo più che altro quelli che sono i nostri punti di debolezza e non i nostri punti di forza allora è indubbio che questo video fino a questo punto bisogna intenderlo fondamentalmente come premessa non perché voglio continuare ma è la premessa di un inevitabile dialogo che si deve estendere da me poi a tutti quanti voi quindi non ti defilare cioè nel senso che è una un punto interrogativo è una domanda e la domanda è qual è il tuo progetto fotografico quindi dove vuoi arrivare cosa ne vuoi fare di questa della fotografia ed è lecita secondo me qualsiasi risposta però è molto interessante capire il perché se compro un'auto è perché so che mi serve per la mobilità ma se investo tanto magari in macchina fotografica in apprendimento in tecnica in corsi in workshop e così via deve avere uno scopo la mia idea ovviamente relativa a me io è inevitabile che è costruita ed è strutturata però mi fa piacere avere tutte quelle che sono le vostre idee in merito a questa cosa diciamo che questo video si completa inevitabilmente con quello che è una vostra opinione e questo fatto secondo me è molto importante la sottile linea che lega me come quello che pone a volte dei problemi e delle delle questioni rompiscatole è quella vostra che mi fornite la vostra opinione in questo modo una comunità cresce quindi questa questione questa sorta di dialogo unidirezionale una cosa che l'ho detto in tanti video mi annoia ma mi fa molto piacere continuare a conoscere poi i fotografi quindi continuare a conoscere chi ha un'idea mi spaventerebbe il fatto che non ho un'idea strutturata del mio progetto fotografico e quindi dove voglio arrivare ovviamente la discussione è preferibile nei commenti però io vi ricordo che per porre domande per fare tutte quando una serie di belle cosettine vi ricordo che c'è il server discord stiamo crescendo cioè siamo una comunità nell'ambito della comunità ogni tanto inserisco il link d'invito perché non c'è una vera e propria pagina con un indirizzo ma è un link con un invito lo trovi sotto e probabilmente se me lo chiedete io lo reinserisco nuovamente quindi ragazzi fondamentalmente non è voi perché fotografate ma è qual è il vostro legame con la fotografia e poi dove volete arrivare se volete arrivare da qualche parte video breve mi auguro diretto 10 minuti e 25 ragazzi poi forse ne faccio un altro per domani ma ne ho un altro in partenza perché ti ho il ti ho beccato di questa settimana quindi inevitabilmente ci rivedremo a brevissimo sto preparando la borsa se volete sapere anche della borsa che sto preparando lo zaino le cose per porto per cinque giorni a porto mi fa piacere scrivetelo nei commenti che probabilmente al volo realizzerò un altro video sto portando il mondo quindi se volete sapere cosa porterò leggero leggero ma porterò parecchi device che devo provare di parecchie situazioni mi stava in mente anche una piccola idea malsana ovviamente perché poi ci dobbiamo complicare la vita però aspettatevi grandi video da porto vi posso assicurare che secondo me sarà interessante porto per porto ma sarò concentrato a fare video e quindi mi è venuta un'idea fantastica ne parliamo ovviamente prossimamente e poi vedrete il risultato quindi iscrivetevi mettete il like questa volta ho detto anche alla fine a prestissimo a voi alle vostre famiglie non c'è niente altro da dire un saluto e chiudo ciao 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 ciao